I migliori! E cosa vuole qui da noi? Lavorare? Lavorare? Ma lei non ha alcuna qualifica. Ce la metterò tutta, promesso. Davvero? Lei sa che qui da noi non si scherza, vero? Ma io voglio stare con il numero uno. Allora, benvenuto in squadra, signor Superbüller. Sono già migliore, puoi vincere. Miriamar, non sono mica scemo.